пятоко CHE RINDER no ma non tutti hanno dei ferrati è perchè vedo quella signora il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E' certo eh? Ciao! Ciao! Non c'è l'audio? Perchè è imbottita, non c'è niente Io metto la musica di solito Adesso la musica Un'ñelamos C'è la musica di solito Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. Il lavoro è un'optionale Magari è meglio per stare lì Adesso, sì sì, adesso Ma quanto tieni nello scalpone? Sto veloce Sto veloce Tu ti dico che non c'è più Sì sì E lascia anche te qua qua, di sopra Così non hai problemi con le mani Ma lascia le pacchette sotto? No, poverina Lascia pure lì qua le pacchette Così almeno quella ritorna Perfetto Così almeno non rompono le palle Vieni pure di qua va Brava Aiuto, quando hai bisogno di aiuto Io ti butto giù No, ma io ti chiamo bambino Ah no bambino No bambino E' brava Ma mio figlio era 24 No, ma lei poverina che ha paura Lei mi dice ancora una tra l'altra poverina No dai Non vieni in montagna Non vieni in montagna Eh che pareva Giorgito che vanno in montagna e qui non vanno Eh? Oddio santa E' quello che ho Eeeh A me non piace ne Allora Vieni in montagna Faccio vedere io il panca Diventa nero Nero! Nero! si si, oggi facciamo anche la rampa si 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 Grazie a tutti. 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 No, a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.